nevica? un po' pare così pare se l'accettiamo scommessa nevica si o no? guarda come si vede nel video un po' blu spettacolare mette il cappuccio ahahahah è tutto grigio si vede andassi qua questo è neve eh? guardate le persone per sé vero no? sono pure abituati guardate da stamattina sono già caduti che facciamo? che facciamo? che vuoi fare? le condizioni atmosferiche sono non proibitive ma di più? ma quasi sono indubbiamente difficili nonostante tutto abbiamo girato ci siamo riusciti a fare delle cose insomma parecchia roba parecchia insomma ma è che comunque ha un'offerta diciamo concentrata a misura d'uomo a misura d'uomo delle nevi magari si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale o al museo d'arte contemporanea contemporanea o all'isola all'isola la consiglierei io che altro non sappiamo da quando comincia l'isola se andiamo all'isola quando comincia l'isola? io andrei al museo d'arte contemporanea vabbè allora decidiamo vediamo la prossima ripresa da dove sarà internal tutta la vita dice vota peppe e io dico ovino verde passiamo devo riposare anche un po' la telecamera che ci sta facendo in quattro guarda qua guarda che spettacolo questa è la via dei tram questo è lo chili foam questo è lo chili foam questo è lo chili foam minchia questo è minchia il commento perché